il primo disturbo diciamo della tiroide diciamo l'ipertiroidismo e il più comune è la malattia autoimmune di graves base dove in quella situazione il corpo produce un anticorpo che serve per proteggerlo da virus o batteri e quindi si mette a produrre troppi ormoni tiroidei l'ipertiroidismo può essere comunque anche causato da un gozzo nodulare quindi un grumo nella ghiandola della tiroide in pratica causando comunque un'eccessiva produzione di ormoni anche in questo caso l'infiammazione della ghiandola tiroidea si chiama tiroidite come tutte le parole che finiscono in nite sono tutte infiammazioni che è il risultato poi di un attacco al sistema immunitario che può essere un'infezione virale per esempio può essere anche temporanea perché poi si può rientrare in una situazione normale la tiroide un altro problema che può causare ipertiroidismo potrebbe anche essere consumare troppo iodio per esempio che può essere assunto se non si sta attenti da effetti integratori che magari hanno dentro diverso iodio e nel tempo possono creare e può creare delle problematiche i fattori comunque che contribuiscono principalmente a una situazione di ipertiroidismo sono sono molti la sindrome per esempio di permeabilità intestinale e qui ritorniamo su uno degli argomenti che continuiamo a trattare perché l'intestino è un punto centrale per il benessere almeno il 60 70 per cento di difesi immunitarie sono nell'intestino e una delle problematiche dell'intestino è proprio la permeabilità intestinale altro problema possono essere gli squilibri ormonali che può posso possono determinare comunque un ipertiroidismo o un eccesso di tossine a pressione dell'organismo e questo qui è un altro degli argomenti che continuiamo a toccare infatti anche il discorso delle depurazioni che regolarmente proponiamo servono proprio a quello a eliminare le sostanze tossiche le tossine all'organismo perché un organismo pieno di tossine non fa altro che inevitabilmente a fare lavorare tutti i vari organi al rallentatore perché sono appesantiti fanno fatica comunque a svolgere tutte le tutte le sue funzioni un altro aspetto che contribuisce all'ipertiroidismo sono le allergie alimentari i sintomi invece che ci troviamo quando si è in ipertiroidismo è qualche effetto da ansia disturbi del sonno si è molto irritabili sempre diciamo la sindrome dell'intestino irritabile il battito cardiaco che non è più regolare e l'immagrimento tendenzialmente la persona in questa situazione tende a dimagrire aumenta la sete normalmente sia una sudorazione notturna molto spesso disturbi alla sfera sessuale una persona in ipertiroidismo in genere ha occhi granati sporgenti quindi occhi molto molto grandi diciamo sguardo fisso ingrossamento chiaramente della tiroide e quindi il gozzo tendenzialmente verso l'ipertensione aumento della temperatura corporea irritabilità dicevo irrequietezza questi sono le caratteristiche della persona diciamo che è fatto chi è in ipertiroidismo vengono fatti prendere dei farmaci ma come diceva Melissa all'inizio il problema della tiroide non può essere scollegato comunque da tutto il resto del corpo e quindi la visione complessiva dell'essere umano può dare delle risposte e delle soluzioni del perché comunque eh la tiroide non funziona bene la tiroide come c'è una locandina è la ghiandola del tempo molto spesso va fuori giri perché si corre troppo il mondo di oggi e si va tutto di fretta di fretta di fretta non c'è mai tempo di fare tutto quello che si vuole e questo è una delle problematiche grosse sicuramente l'ipertiroidismo che poi comunque questo ne parleremo un pochino meglio nella seconda parte su cosa si può fare appunto dal punto di vista di stile di vita e poi un aspetto importante poi parliamo anche l'alimentazione tutta una serie di cose che si possono mettere assieme l'ipertiroidismo viene spesso trattato danneggiando poi alla fine le cellule tiroide utilizzando delle capsule di iodio radioattivo e la tiroide avendo bisogno di iodio lo prende anche se poi alla fine gli fa male e poi alla fine la tiroide viene danneggiata perché diminuisce di fatto la produzione di ormoni ma è una diminuzione di ormoni in maniera non funzionale non regolare e danneggiata e danneggia rischia di danneggiare in molti casi la tiroide provocando l'ipotiroidismo per quello la gente ipotiroidea è molto di più dei per ipertiroidi e quindi è molto maggiore perché si passa da una situazione attraverso l'utilizzo di farmaci a un'altra e quindi quindi a un certo punto smorzando così tanto la possibilità di di produrre ormoni la ghiandola non sarà più in grado di produrli e quindi poi alla fine si passa in ipotiroidismo si passa ai farmaci leutirox e tirosinti principalmente da prendere a vita perché si è distrutto completamente la tiroide perché ho questa soluzione o l'altra soluzione che propongono normalmente l'asportazione di tutta o parziale o parte diciamo della tiroide e quindi anche lì si va sempre coi farmaci logicamente quali alimenti evitare nell'ipotiroidismo perché quando non si trova in quella situazione deve sicuramente agire a livello alimentare il glutine per esempio una dieta senza glutine riduce l'infiammazione nell'organismo perché perché è un'infiammazione quella di base i latticini per esempio sono fonte di infiammazione ma il discorso infiammazione abbiamo trattato nelle serate precedenti dove una delle problematiche principali oggi è proprio l'infiammazione tendenziale del corpo e su un terreno infiammato logicamente non va a rischio solamente la tiroide ma tutta un'altra serie di distretti quindi tenere in basso il livello di infiammazione è fondamentale sicuramente quindi i latticini vanno eliminati con i artificiali e i coloranti sono pieni di tossine che possono andare a influenzare infatti il funzionamento della ghiandola tiroidea quindi in quel caso lì è meglio evitarli lo zucchero lo stesso lo zucchero abbiamo tenuto una delle ultime serate col titolo zucchero killer tanto per impostare già subito il discorso perché lo zucchero fa tanti di quei danni anzi consiglio di andare a rivedere andare a rivedere quella quella serata perché è di fondamentale importanza in quella situazione qui di ipertiroidismo sicuramente anche lì va eliminato completamento quasi lo zucchero perché sopprime la funzione immunitaria e contribuisce quindi all'insorgere malattie autoimmuni che è un'altra piaga di questo di questo periodo tutto il cibo confezionato può contenere gli OGM ormai gli OGM li stanno mettendo dappertutto la soia poi non ne parliamo infatti abbiamo visto la volta scorsa come l'ottanta ottantacinque per cento di soia che gira in Italia è tutta tragedica perché arriva tutta all'estero e quindi è difficilissimo trovare alimenti di soia non OGM il discorso un po' diverso è la soia fermentata quindi il natto il miso quello può andare bene il resto va sicuramente tutto eliminato la soia infatti può interferire anche col sistema ormonale e quindi crea un sacco di problematiche chiaramente il sale e le alghe marine che sono ricche di iodio vanno limitate tantissimo sono eliminate alcol e caffè alla stessa maniera perché peggiorano una già accelerata situazione del nostro metabolismo quindi vorrei andare ad accelerare sempre di più gli alimenti invece per una dieta sana in questa situazione torniamo su una stile alimentare corretto un po' per tutti poi oltretutto perché oggi quello che sono le abitudini alimentari sono veramente disastrose e infatti si vede come una buona parte di popolazione per un motivo o per l'altro c'è qualche problema sono patologie gravi oltretutto la solità del benessere cosa sta producendo malattie perché non si mettono in campo tutta una serie di conoscenze che abbiamo e sarebbe facile adesso stare in buona salute o rientrare velocemente se si avesse qualche problemino quindi come alimentazione bisogna rivolgersi a cibi benefici che lavorano comunque sul controllo dell'insulina e sulla riduzione del discorso che dicevo prima dell'infiammazione generale e vanno ad aiutare e a riequilibrare dare una regolazione al consumo energetico dell'organizzo perché in ipertiroidismo viene sballato proprio questa regolazione un alimento importante sono i succhi verdi e questa è la stagione dei succhi verdi freschi da vegetali ricchi di nutrienti come il cavolo, la rucola, la lattuga, il cetriolo, la bietola per esempio e con l'aggiunta anche di spirulina e clorella che possono aiutare che aiutano a fornire sostanze nutritive vitali per disintossicare l'organismo e possono essere preparati con la centrifuga o la cosa migliore è l'estrattore la differenza tra l'estrattore e la centrifuga qual è per chi non lo sapesse l'estrattore è una vite senza fine che gira molto lentamente a 40-50 giri al minuto quindi va a estrarre e a mantenere inalterato tutti gli enzimi, i principi nutritivi perché gira molto lentamente, la centrifuga gira a tantissimi giri 8-900 giri forse anche di più e quindi va a distruggere gli enzimi che sono fondamentali per tutta una serie di processi all'interno del nostro corpo perché scalda oltretutto utilizzare i cibi integrali per esempio come osami integrali, come il riso, il grano saraceno che è importante anche perché non contiene neanche il glutine quindi ottimo perché il glutine è pro-infiammatorio quindi accentua l'infiammazione in maniera consistente il miglio, la quinoa, l'avena per esempio si possono usare anche le erbe aromatiche che sono anti-infiammatorie come il basilico, il rosmarino e l'origano per esempio che aiutano a migliorare la funzionalità tiroidea buone sono anche le verdure crocifere brucola, broccoli, cavoli cavolfiori che sostenziano contengono una serie di sostanze che limitano la produzione di ormoni tiroidei in eccesso quello che si vuole in una situazione di questo tipo e vanno consumati preferibilmente crude queste verdure qui si possono tagliare molto sottili nell'insalata oppure si possono preparare con le verdure fermentate anche qui abbiamo tenuto una serata sulle verdure fermentate normalmente nell'alimentazione corrente o se no si possono mettere sempre nell'estrattore e questo è il periodo favorevole fino a settembre-ottobre bisogna andare dentro, giù abbastanza con l'estrattore la frutta, anche la frutta è amica della tiroide la pera, la pesca, la papaya, per esempio anche il mango i semi di lino sono un altro alimento importante è ottimo per ripulire l'intestino per esempio lo utilizziamo quando si fa depurazione con la mela e semi di chia per esempio è l'acqua ed è importantissimo sono importantissime che forniscono gli arboristi graziali appunto per rallentare la funzione tiroidea per esempio si trova gli arboristi che aiutano a equilibrare la situazione in caso di ipertiroidismo la carnitina per esempio anche gli oli essenziali sono importanti come l'incenso e la mia che riducono lo stress posso migliorare appunto le funzioni tiroidee 30 minuti prima di colicarsi poi sono indicazioni come stile di vita corretto per esempio e la cena frugale l'attività fisica è importante sull'equilibrio ormonale perché aiuta l'espulsione delle tostine e riporta il metabolismo energetico in aerobica quindi per chi corre si fa la corsetta a piedi o si va in bici o una camminata a passo veloce che questo è molto importante poi vabbè si può agire anche con logopuntura però questo è un discorso un pochino specifico o anche cantare per esempio i medici consigliano di cantare o di fare anche solo semplici vocalizzazioni per aiutare a riequilibrare la funzionalità della tiroide questo è un po' quanto questo è un po' quanto melissa melissa ci sei aspetta che avvio audio eccomi ci sono eh sì prego continua pure tu con il discorso l'ipotiroidismo l'ipotiroidismo eh sì eh allora l'altro secondo il secondo grande tra virgolette forse più diffuso anzi decisamente più diffuso rispetto alla all'ipertiroidismo è l'ipotiroidismo al contrario di quanto appena detto l'ipotiroidismo è la condizione in cui avviene una ridotta produzione di ormoni tiroidei eh oppure la loro mancata utilizzazione questo vuol dire che l'ormone T4 viene prodotto all'interno della tiroide per poi essere convertito nella forma attiva T3 nei tessuti periferici in alcune condizioni stressogene eh la tiroide può produrre una sufficiente quantità di T4 ma poi ci può essere un'anomalia nella convertirla o in T3 scusate perché ci possono essere eh delle difficoltà appunto nella conversione quindi ne viene prodotto un quantitativo sufficiente ma non c'è un problema nella conversione in T3 e in questo caso i pazienti possono manifestare sintomi di ipotiroidismo abbiamo detto prima che gli ormoni tiroidei servono ad accelerare il metabolismo e la reazione dell'uomo nei confronti di eh uno più eventi per cui eh la mancata secrezione di questi ormoni ha a che fare con un sentito ben preciso la persona vorrebbe rallentare vorrebbe slegarsi dallo scorrere del tempo che appare troppo veloce vorrebbe distaccarsi da ciò che la sta coinvolgendo l'ipotiroidismo è la soluzione di solito di un lungo periodo di ipertiroidismo di iperattività della ghiandola quindi si passa da una funzione come aveva detto prima Carlo di iper che lavora tanto iper lavora la tiroide e poi rallenta perché non ce la fa più praticamente il nostro corpo a un certo punto dice basta non ce la faccio più e quindi rallenta molto spesso eh questa condizione non viene diagnosticata perché come abbiamo detto prima in una società come la nostra dove le persone attive intraprendenti che lavorano dodici ore al giorno eh vengono addirittura premiate o considerate più brave migliori quelle che hanno una produttività super efficiente eh quando questo processo si inverte e si passa all'ipotiroidismo arriva poi la diagnosi perché i disturbi sono tanti e diversi e possono essere anche abbastanza invalidanti e produrre preoccupazioni quindi si passa dalla scarsa energia a faticamento e stanchezza specialmente al mattino appena svegli si possono avere disturbi del sonno difficoltà a perdere peso intolleranza al caldo e o al freddo soprattutto a mani e piedi depressioni sbalzi di umore fobie lentezza mentale assenza di memoria cefalea emicrania un fiore della faccia ritenzione idrica acne pelle secca unghie fragili areofagia flatulenza stipsio diarrea addirittura si può avere difficoltà nella deduzione indigestione alterazione mestruale spesso gli ipotiroidei hanno anche poco acido cloridrico quindi hanno anche difficoltà a digerire si possono avere problemi di fertilità e quindi difficoltà a rimanere incinta ridotta libido rigidità eh articolare crampi muscolari diventano più frequenti le le eh infezioni respiratorie le allergie l'asma si possono avere disturbi visivi e problemi cardiaci quando una persona si sente costantemente stanca scusate un secondo eh alla fine va a fare gli esami del sangue e spesso torna a casa con un una una diagnosi di ipotiroidismo per fortuna eh le lobby del farmaco hanno inventato il farmaco delle lezione come ha detto prima Carlo leutirox è diciamo il più conosciuto va un po' contro quella che è la biologia della persona perché la mantiene in perenne conflitto attivo in pratica mantengono la donna in conflitto attivo per sempre o almeno fin tanto che assume questo farmaco in più eh come diceva prima Carlo cosa succede che la persona che eh prende il farmaco subentra la stampella che è data appunto dal farmaco quindi ovviamente non stiamo parlando di una tiroide che viene rimossa completamente perché in questo caso è chiaro che ci deve essere il farmaco che la sostituisce perché abbiamo detto che senza la ghiandola tiroidea la vita non è possibile nel caso in cui in cui però ci sua ci sia per esempio un ipotiroidismo eh prendere il farmaco cosa succede che quella eh la tiroide non è più stimolata a tornare a eh lavorare come doveva prima perché c'è la stampella che è data dal farmaco e quindi si rende la persona dipendente dal farmaco a vita quali sono i sintomi più comuni dell'ipotiroidismo eh temperatura corporea bassa inferiore a trentasei di solito trentasei virgola quattro sotto quindi trentacinque trentacinque sei trentacinque otto stanchezza e debolezza cronica abbiamo detto già l'abbiamo già dette le 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 cito velocemente aumento di peso stitichezza pelle pallide secca sudorazione ridotta estremità fredde umide infezioni ricorrenti naso gola orecchie debolezze immunitarie eh e infezioni frequenti quali per esempio la candida unghie fragili morbide giallastre striate letto ungueale pallido capelli fragili sottili secchi opachi caduta dei capelli specialmente su fronte nuca e zone temporali ipoglicemia i sintomi più comuni sono cefalea brividi sudorazione tachicardia spossatezza senso di svenimento fino ad arrivare a ansia attacchi di panico appetito ridotto fino all'anoressia o appetito aumentato labbra espessite occhi rossi voce rocca indolenzimento pigrizia sbogliatezza sonnolenza letargia alcune volte si arriva a un umore malinconico un po di depressione stanchezza mentale si fa fatica a concentrarsi riduzione scomparsa del desiderio sessuale disturbi o alterazioni del ciclo mestruale infertilità come vi ho detto prima quindi capacità di rimanere gravide cefalea ed emicrania gonfiore alle caviglie ipotensione polso lento tono cardiaco debole dolori articolari e muscolari debolezza muscolare crampi e allergie eh il dottor Barnes ha ideato ehm questo è abbastanza interessante ma più che altro per chi magari ha qualche sospetto di essere ipotiroideo e prima magari di andare a farsi tutti gli accertamenti vuole vedere se effettivamente ha dei diciamo il suo sospetto è fondato o meno ehm questo dottor Barnes ha ehm visto che siccome la la l'ipotiroidismo determina dei problemi di termoregolazione no perché la tiroide regola il metabolismo basale quindi ehm ha individuato questo test misurando la temperatura del paziente ehm temperatura corporea chiaramente a riposo e cos'ha ideato ehm per vedere se una persona ha buone possibilità di soffrire di ipotiroidismo dovrebbe misurarsi per tre giorni consecutivi appena sveglio quindi prima di alzarsi dal letto appena sveglio dovrebbe prendere il termometro non va bene i termometri eh quelli elettronici ma l'ideale ancora il vecchio termometro a mercurio misurarsi la temperatura ascellare e se per tre giorni consecutivi quindi se la prova per tre giorni ripeto prima di alzarsi dal letto la temperatura deve essere i valori normali per non essere ipotiroideo la temperatura dovrebbe essere tra i trentasei virgola cinque e trentasei virgola otto gradi valori inferiori danno eh la quasi certezza che la persona possa soffrire di ipotiroidismo quindi temperature basali eh inferiori a trentacinque virgola otto trentacinque virgola cinque comunque sotto i trentasei eh fanno sì che questo ripeto per tre giorni consecutivi si possa presupporre con abbastanza eh sicurezza che la persona abbia dei problemi di ipotiroidismo ovviamente nel caso non ci fossero problemi di ipotiroidismo cosa abbastanza improbabile ci sono ehm ci sono dei metodi quindi la persona ha quella temperatura lì basale perché è così di natura ci sono dei metodi per innalzare la temperatura corporea perché eh la temperatura corporea troppo bassa eh non va bene al di là del discorso tiroideo ma eh per tutta una serie di ehm reazioni anche per la reattività del sistema immunitario la temperatura corporea non dovrebbe mai essere sotto i trentasei altrimenti crea tutta una serie di problemi tra cui anche un sistema immunitario poco reattivo e poi a cascata tutta una serie di piccoli problemati di piccole problematiche ehm come abbiamo detto prima eh abbiamo visto che il senso biologico dell'ipotiroidismo è la persona che vuole staccarsi eh vorrebbe staccarsi dallo scorrere del tempo e da un eh da un coinvolgimento troppo stressogeno negli eventi della vita quindi vorrebbe staccare staccare la spina e vorrebbe eh diciamo così anche proprio riposare in questo caso eh quale potrebbe essere una soluzione senza eh l'utilizzo del farmaco o di farmaci sarebbe quella eh di riposare proprio di eh diciamo creare nuove reti neurali all'interno del nostro cervello e quindi eh far vedere al nostro corpo e alla nostra mente come il riposo il non fare nulla non è così diabolico non succede niente quindi paradossalmente sembra una cosa quasi da sorridere però eh farsi un weekend dove non si fa assolutamente niente concedersi o non so un fine settimana o in una spa piuttosto che fare un fine settimana al mare senza fare assolutamente niente si crea all'interno del cervello una nuova eh diciamo dinamica dove eh la mente dice eh non è così pericoloso non fare niente non succede niente sono vivo sto bene questo sembra paradossale ma crea veramente un si fa qualcosa di diverso rispetto a quello a cui si è abituati quindi sempre del fare 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 del non fermarsi mai e quindi eh la tiroide e quindi attraverso chiaramente la parte mentale si dà un nuovo input alla tiroide che quindi anziché eh finalmente prova a fermarsi e comincia a eh riequilibrarsi da sé questo ecco sembra una cosa ripeto banale e abbastanza insomma scontata se volete però uno dice vabbè non fare niente qua è impossibile non fare niente io ho sentito anche persone che dicono eh nella nostra società occidentale eh ma no ma non sto se con le mani in mano non sto senza fare niente perché si è talmente abituati a stare nel fare che il fatto di fermarsi per alcune persone è veramente destabilizzante probabilmente avrete conosciuto anche voi persone così quindi ehm questo permetterebbe alla tiroide di eh capire che non è necessario sempre correre 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 quindi la la malattia del tempo in questo caso verrebbe un attimino attenuata perché eh la tiroide percepirebbe che non è un una cosa così grave proprio eh stare fermi eh allora come rimediare all'ipotiroidismo con l'alimentazione chiaramente qui abbiamo visto la soluzione diciamo così biologica eh ci sono poi tutta una serie di eh alimenti di cui ha parlato già Carlo che sono benefici e sono gli stessi guarda caso nella maggior parte dei casi tranne un paio di eccezioni che vanno bene anche per l'ipertiroidismo quindi abbiamo detto eh verdura frutta sotto di sedano sotto di cetriolo ehm chiaramente le alghe in questo caso mentre per l'ipertiroidismo vanno un attimino eh prese ma controllate perché contengono molto iodio nel caso dell'ipotiroidismo sono consigliate chiaramente anche in questo caso senza eccedere perché come tutti gli alimenti curativi anche in questo caso non bisogna esagerare però nel caso di ipotiroidismo danno una sferzata al nostro sistema ormonale ehm in più bisognerebbe ridurre o eliminare il glutine perché quello è pro infiammatorio a prescindere sia per l'ipo che per l'iper che per tutti i disturbi che possiamo avere quindi periodicamente andrebbe tolto ehm poi eh adesso guardo le domande eh finisco un attimino qua ho visto che ci sono delle domande assumere grassi sani che sono per esempio eh come abbiamo già parlato anche in altre serate l'olio di cocco l'olio d'oliva l'avocado quindi sostituire per esempio la la colazione eh che normalmente si fa con i carboidrati a parte chi brioche biscotti eccetera andrebbe sostituita con grassi buoni come per esempio l'avocado ehm seguire una dieta eh povera di carboidrati a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di proteine naturali quindi proteine date sia anche dal pesce perché nel caso di ipotiroidismo va bene mangiare un po' più pesce possibilmente sempre quello meno ricco di piombo quindi parliamo sempre di sardine pesce azzurro pesce sgombro pesce di piccola taglia e però anche eh dato anche dalle dei carboidrati contenuti nelle verdure come abbiamo detto prima questo aiuta notevolmente eh la tiroide in caso di ipotiroidismo poi cercare di evitare lo stress cronico eccessivo quello l'abbiamo detto eh perché chiaramente lo stress a livello eccessivo rallenta anche la disintossicazione attraverso il fegato indebolisce il tratto digestivo eh aumenta il rischio di andare incontro a malattie autoimmuni come la tiroidite di Hashimoto che è una tiroidite di tipo eh ipo ehm anche in questo caso si possono prendere oltre a come abbiamo detto a oli a grassi sani quindi olio di cocco olio d'oliva e avocado vediamo l'olio di cocco contiene anche l'acido eh caprilico contiene anche delle sostanze che sono molto benefiche per tante cose e ehm e poi eh bisognerebbe anche utilizzare qualcosa qualche integratore che aiuti in caso di stress quale per esempio la rodiola rosea che sostiene il corpo nei momenti di iper eh di di iperattività di per certo questo è un aiuto fondamentalmente bisognerebbe cambiare il tipo di alimentazione eh e rallentare la cosa migliore per permettere al corpo di eh di rigenerarsi e di eh risettarsi un po' in se Carlo vuole andare avanti io guardo un attimo le domande che sono arrivate. Carlo? No, stavo vedendo sulle domande. Ah ok. Stavo rispondendo, no, stavo rispondendo. È che il discorso della tiroide non si possono dare indicazioni almeno secondo me eh come sistemare e mettere a posto determinate problematiche sulla tiroide perché collegata a a tutto il resto del corpo quindi eh naturopatia come medicina funzionale si guarda la persona nel suo complesso quindi non si può dare una risposta specifica eh quella è l'ottica della medicina di oggi c'è un problema si può agire solamente sul quel problema ma tutto collegato è tutto completamente collegato quindi dare indicazioni per quel particolare non è l'ottica diciamo della della naturopatia comunque che vede in primis la persona nel suo complesso e va riarmonizzata la persona nel suo complesso poi agisce anche magari a livello specifico però se manca la visione complessa stiva e cadiamo nell'ottica della medicina di oggi che dà il farmaco la parte più importante fondamentalmente questo era una risposta generale che vorrei dare qui alle domande che sono state sono state fatte allora corso della tiroide come abbiamo detto sì no è una domanda che vedo ehm allora il principio di ipotiroidismo potrei avere il vostro parere sull'utilizzo degli ormoni omeopatici di T4 eh allora diciamo che è un buon sistema per evitare di prendere i farmaci eh l' l'omeopatia ehm aiuta molto nel caso di ipotiroidismo ehm ci sono persone che sono tornate diciamo ad avere una funzionalità tiroidea eh regolare utilizzando eh dei buoni prodotti omeopatici venendo seguiti da bravi eh omeopati quindi ehm cioè noi da naturopati consigliamo comunque prima di cioè il farmaco deve essere sempre l'ultima spiaggia quando non si può non non se ne può fare a meno chiaramente si ricorre al al farmaco però in tutti gli altri casi come vi ho detto prima se noi ci abituiamo a prendere il farmaco ripeto tranne che in caso di tiroide mancante che in quel caso non c'è alternativa però cerchiamo prima di trovare sistemi che sia l'omeopatia che sia cambiare alimentazione che sia cercare di cambiare anche modo di pensare che non è facile ma modo di impostare la nostra vita eh in modo che la nostra tiroide riprenda un pochino di vigore e ricomincia a funzionare perché se cominciamo ad abituarla al farmaco come vi dicevo si impigrisce completamente non lavora più e comunque una base tutte queste problematiche è determinato dallo stile di vita dall'alimentazione poi giriamo sempre attorno a queste cose qui perché eh la tiroide è come dicevo all'inizio da il tempo e il ritmo siamo viviamo su ritmi che non sono per l'essere umano ritmi troppo accelerati dove si vuole fare sempre tante cose e a un certo punto si va fuori i giri questo è un po' il discorso perché come diceva Melissa è bene prendersi ogni tanto due tre giorni dove si spezza completamente ma non si cambia quello che si fa che per qualche motivo per qualche verso può può dare dei risultati positivi ma in questa situazione qui va spezzato imparare e nell'encefalo si sviluppano nuove reti neuronali ed è fondamentale quello per il cambio e il passaggio diciamo una situazione diversa eh bisogna darsi quegli spazi e che danno al nostro corpo e la nostra mente la possibilità di riequilibrarsi dopo anni e anni di sollecitazioni non fatte per l'essere umano e lo stesso l'alimentazione l'alimentazione di oggi poi come si diceva è la stessa più o meno per il grosso modo tra iper e ipo ma perché oggi se tante malattie sono sollecitate da un'alimentazione che ci sembra normale sono tutti trattati lavorare sulle culture intensive trattate con tanta roba chimica hanno non c'è più la turnazione diciamo delle delle coltivazioni quindi sono terreni poverissimi e le proprietà della frutta e della verdura eh sono quasi dimezzate quindi insomma è chiaro che eh si mangia roba vuota di energia e questi sono aspetti importanti quindi già ritornare a un ritmo di vita più tranquillo e più sereno e mangiare adeguatamente mangiare di qualità con i ritmi giusti nella giornata è fondamentale di fondamentale importanza è già quello attenersi a queste due cose è già in parte una cura per tante problematiche comunque eh qui dicono ehm quello che volevo capire è se questi ormoni omeopatici causano come i farmaci un impiegamento della tiroide no perché appunto l'omeopatia ha di bello che non ha gli effetti collaterali dei farmaci quindi benissimo non non causano impigrimento il rimedio omeopatico eh a piccole dosi spinge la tiroide a eh ad attivarsi e quindi non ha effetti non hanno effetti collaterali nel caso di no dove la tiroide sì perché sono due eh metodi di azione diverse uno è il principio chimico dove si va sulla quantità del principio attivo l'omeopatia viene dinamizzato il prodotto viene dinamizzato e quindi si ha una quantità infinitesimale addirittura decine e decine di migliaia di volte diluito molte volte e quindi è un segnale che si manda un segnale non può creare problemi a livello fisico perché lavora sulla sull'informazione fondamentalmente ed è quella la grande differenza non può creare delle problematiche un un prodotto omeopatico perché è una diluizione infinitesimale infatti per la medicina ufficiale è acqua è acqua fresca chissà perché molta gente poi in Italia almeno un italiano su tre ma forse anche di più dalle statistiche utilizza l'omeopatia se utilizza perché ha dei risultati perché ok qua qualcuno deve lasciare comunque nel caso di noduli e la tiroide allora nella maggior parte dei casi secondo noi non andrebbero toccati solo che c'è questa tendenza a fare l'ago aspirato a cominciare a toccare poi a dire meglio toglierli e c'è un po' questa tendenza andrebbero magari tenuti sotto controllo ma ci sono stati casi in cui spariscono addirittura poi sembra una banalità ma come diceva Carlo prima cantare vocalizzare aiuta a risolvere i problemi della tiroide ci sono persone che attraverso la voce hanno avuto la sparizione di nodule la tiroide quindi anche questo è una cosa che può essere interessante poi come dice c'è una una persona dei la che dice nel mio caso spariti quindi se è possibile non toccarli tranne casi particolari adesso è chiaro che non si può generalizzare però ecco tenerli magari controllati ma non farli toccare perché possono anche sparire da soli e prima chiedevano della tiroidite di Hashimoto è una malattia autoimmune considerata è considerata dalla medicina ufficiale una malattia autoimmune ne soffrono diverse persone anche persone giovani donne di maggioranza sesso femminile anche qui tendono a dare farmaci chiaramente la medicina allopatica però ci sono persone che noi conosciamo che sono guarite utilizzando farmaci no farmaci scusate terapie alternative quali per esempio i funghi medicinali i funghi medicinali presi per un lasso di tempo un pochino lungo chiaramente poi dipende se è una tiroidite di Hashimoto che si trascina da tanto tempo se magari appena iniziata ci sono persone che hanno avuto la totale regressione del problema quindi ecco cercate sempre di trovare finché potete perché chiaramente l'endocrinologo la prima cosa che fa vi prescrive il farmaco e vi dice che non potete non prendere farmaci perché altrimenti i danni sono gravi eccetera non dico di non prendere il farmaco ma solo in casi proprio di che non si può avete provato tutto il resto non funziona niente e allora va bene ma in tutti gli altri casi cercare un'alternativa è un favore che fate la vostra tiroide avete più possibilità di tornare a stare bene sono ipo e voglio togliere le utirox ho iniziato a fare ginnastica ormonale più integratori e al momento sto bene ecco vedete poi ci sono anche queste bellissime testimonianze di Claudia in questo caso che tanti dicono le utirox non si può togliere è chiaro che più passa il tempo e più voi lo assumete e più diventa difficile toglierlo perché anche a livello psichico di effetti collaterali abbastanza pesantucci però se uno vuole ed è veramente determinato a smettere di essere dipendente dal farmaco e chiaramente come ha fatto Claudia sostituisce con altre cose integratori di altro genere ginnastica ormonale eccetera o anche rimedi omeopatici seguita da un buon omeopata ci sono buone possibilità e anzi ottime che si possa togliere il farmaco e quindi non è una cosa così impossibile come ci dice la medicina allopatica assolutamente no non si può come vi diranno quasi tutti i medici ci sono ottime alternative e ripeto c'è la possibilità di tornare in equilibrio anche con integratori molto validi eh sì no infatti prima di andare subito sul farmaco come spesso si fa oggi si possono praticare dei percorsi importanti sicuramente ma come che so il diabete una malattia ormai diffusissima troppo spesso si dà l'insulina quando invece ci sono percorsi molto interessanti andiamo a vedere anche solamente il dottor Walter Longo con la mimo dieta periodo di cinque giorni di dieta che nel giro di poco tempo fa rimette a posto la problematica quindi la persona non è più diabetica non ha più bisogno di insulina è un medico questo questo è un medico conosciuto a livello internazionale perché lavora lavora negli Stati Uniti addirittura sta completando uno studio sul rigenerare riportare le cellule pancreatiche per esempio al suo livello precedente quindi vuol dire andare a lavorare alla base un po' di tutta la problematica quindi di strade ce ne sono sicuramente importante è avere le informazioni giuste e metterci l'impegno che ci vuole ma tante cose si possono fare ormai le conoscenze sono tantissime e basta metterle in pratica questo sicuramente anche Deila diceva io conosco una signora che il cui medico ha detto gli ha detto che deve prendere a vita il farmaco incredibile e non è solo ho risposto non è solo il suo medico la maggior parte dei medici sono pro 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 farmaco soprattutto gli endocrinologi da cui si va quando si ha un problema di tiroide danno la cura e dicono che è impossibile di non azzardarsi e non prendere il farmaco perché si va incontro a delle conseguenze disastrose eccetera prima qualcuno chiedeva dalla tiroidite di Hashimoto e generalmente si è visto che i disturbi digestivi e la permeabilità intestinale sono molto comuni nei pazienti che sono affetti da tiroidite di Hashimoto quindi già andando a sistemare l'intestino e il problema digestivo sicuramente si possono mettere le basi per sistemare anche la tiroide più chiaramente degli integratori mirati ma perché c'è anche una base sicuramente di infiammazione come sempre è una costante quindi lavorando per abbassamento di infiammazione generale si aiuta comunque a rientrare in certi parametri più normali quindi il discorso dell'infiammazione è un discorso centrale nel benessere come anche quello dell'acidosi per esempio oggi si è tanta gente è acidificata e infiammata e quindi creano un terreno favorevole per tante per tante patologie e quindi bisogna andare a lavorare su quella in quella direzione subito sicuramente per tutti per ridurre qualunque ridurre la possibilità di patologie di diverso tipo e l'intestino e il pulcro dove gira tantissimo il benessere gira lì sull'intestino sì allora cosa potrebbe dunque avete detto di aumentare la temperatura corporea quindi intendevate con il calore sì per esempio uno dei sistemi è quello di fare tutte le sere vabbè tranne probabilmente il periodo adesso perché si morirebbe di caldo ma un bagno caldo perché prima di andare a dormire incrementa la temperatura corporea basale uno dei sistemi poi ci sono anche c'è anche un libro in commercio di un medico di cui adesso mi sfugge il nome come aumentare la temperatura corporea per esempio anche facendo più attività fisica facendo bagni serali perché una maggior temperatura corporea fa sì che il nostro corpo diventi più resistente a livello di sistema immunitario cosa potrebbe aver determinato in un ragazzo di 18 anni un F4 è quello purtroppo Ilaria purtroppo cioè rispondere a vedere è un pochino cioè daremo delle risposte sicuramente non mirate superficiali può succedere che anche in un ragazzo bisogna vedere un po il suo vissuto psicologico chiaramente detto così è una insomma non possiamo dare una risposta sicuramente ha vissuto una situazione che gli ha creato un problema di accelerazione o non lo so un problema col tempo con la gestione del tempo bisogna vedere bisogna vedere più nel complesso la persona non si può dire su un aspetto e basta ecco questo altre cose che avranno influito sicuramente ma io direi di andare un po verso la conclusione sono già no no infatti adesso chiudiamo Marinella mi piace leggere queste testimonianze perché dimostrano come in effetti non è fondamentale prendere il farmaco 15 anni fa mi hanno diagnosticato tiroidite mi sono rifiutata di prendere un tirox e mia tiroide funziona ancora quindi ecco questo serve anche per gli altri per per dare speranza di come effettivamente non è una cosa così impossibile se si soffre di problemi della tiroide evitare i farmaci se non in casi proprio eccezionali dobbiamo chiudere perché abbiamo superato la nostra i nostri 30 minuti sono diventati ormai un'ora e vi ringraziamo tantissimo per l'interesse dimostrato volevo ricordare un attimo ricordare alcune cose sugli appuntamenti i prossimi sono la depurazione metalli pesanti che inizia domani e poi abbiamo mercoledì 22 asseriate quindi zona bergamo sull'energia vitale degli alimenti come misurarla come vedere la compatibilità con noi stessi e il venerdì il 24 abbiamo dei bagni di gong immersi nella natura ricordo comunque il nostro canale nuovo canale onda vitale benessere dove sono tutti i video che abbiamo fatto con 30 minuti per il benessere e alcuni progetto progetto primavera dove sono anche lì delle cose interessanti poi metteremo anche dei documenti di particolare rilevanza e chi vuole entrare nel canale lo comunichi al 351 582 88 19 queste sono le informazioni che volevo dare ricordo che l'associazione onda vitale è un'associazione completamente autofinanziata chi vuole darci un sostegno o qualcosa entrando nella nel nostro sito si può entrare direttamente su paypal o attraverso il codice IBAN fare un bonifico ok ringraziamo tutti per la presenza e la partecipazione e a martedì prossimo ho un argomento che dobbiamo ancora definire grazie se qualcuno ha un argomento che vuole un argomento che vuole che che non abbiamo trattato e quindi da suggerire per la prossima il prossimo martedì perché abbiamo fatti già ben sette ventotto forse potremmo fare tantissima roba sulla sull'incremento della temperatura corporea potremmo fare quello visto che c'era una domanda beh adesso ci pensiamo un attimo poi se avete qualche suggerimento potete mandare un messaggio e poi vediamo per l'argomento del prossimo martedì valutiamo grazie a tutti e una buona serata grazie buona serata buonanotte ciao 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 ciao